Una premiazione importante per il ruolo che lei svolge, che cosa significa per lei questo? Guardi, è un onore essere premiato con il ricordo di Gioia Petrosino. Significa, diciamo, condividere insieme dei valori. Un uomo che ha immolato se stesso per la giustizia, per la solidarietà, pensando di poter aiutare la società. E' per noi un simbolo. Accostare la mia attività a quella di un uomo così importante come è stato Gioia Petrosino per me è una cosa veramente di grandissimo onore. Questa giornata vuol dire anche affermare dei valori di legalità importanti, come il suo lavoro spesso ha portato a fare. Il lavoro del magistrato è un lavoro che si cala in una realtà molto spesso inquinata da gravi reati. Il magistrato non deve mai dimenticare che dietro ad ogni fascicolo, dietro ad ogni procedimento, ci sono persone che soffrono, per cui ogni ritardo finisce per ricadere sulla società. Quindi vi si diceva, lei ha il passo veloce. Il passo veloce perché penso che ogni momento della nostra vita può essere utile per contribuire a migliorare la società. C'è un messaggio che può dare alle giovani generazioni? Che assumano come simbolo persone come Gioia Petrosino, persone che hanno dato la vita per gli altri, perché solo così si raggiunge il progresso, lo sviluppo e il bene di tutti.